Ciao Astronomers! Oggi voglio mostrarvi le nuove funzioni che abbiamo aggiunto alla prossima versione 1.9.3 di software di Astrofotografia per Telescopi. Iniziamoci! Come lo sai, Play è il software che abbiamo sviluppato per i computer Windows e l'Eagle, permettendo di controllare facilmente tutti i dispositivi di Prima Luce Lab, anche con la vostra preferita camera e monta. Questo ti dà un modo semplice di performare a Astrofotografia con il tuo telescopio! In versione 1.9.3 di Play, introduciamo la nuova funzione di Enhance, che aumenta automaticamente la visibilità di on-screen di stelle, galassie, nebuli e cluster di stelle, quando capturando immagini. Iniziamo anche la calibrazione colori se utilizzate una camera colori. Inoltre abbiamo migliorato questo sequenziro. Ora non solo potete capire immagini di calibrazione come le scuole, le biazze e le flacze, ma potete anche selezione delle procedure di automazione specifici, basate sui dispositivi collegati a Play. Per esempio, potete automaticamente cercare il telescopio cap o il dame alla fine della tua sequenza. Inoltre abbiamo migliorato l'algoritmo di autostacking, che automaticamente stacca le immagini durante l'acquisizione e riduce il ruolo, dando una grande previsione del tuo target che puoi facilmente comprare. Anche abbiamo il file FITS per usare in vostra routine di processione. Poi potete trovare un guide dettagli su come usare Play nel mio libro Explore l'universo per l'astrofotografia, capturando fotografie con telescopi e software Play Astrofotografia, disponibile direttamente in Play, cliccando l'icona sul topo, o potete downloadare la versione PDF dal manuale del nostro sito. Potete download Play 1.9.3 dal nostro sito. E come usual, per più contenuti che ti aiuteranno a esplorare l'universo come un pro, abbiatevi al nostro canale e... Clear skies! e... e... Grazie a tutti.